Nel quartiere Fontivegge di Perugia, l'amministrazione comunale incontra cittadini e associazioni per discutere di problematiche legate alla sicurezza e al degrado urbano. Tra le iniziative dell'incontro spiccano le parole della sindaca Vittoria Ferdinandi e dell'assessore Francesco Zuccherini, che illustrano i piani del comune per rilanciare il quartiere. L'obiettivo condiviso è quello di promuovere una sicurezza partecipata, coinvolgendo i residenti e riqualificando le aree urbane degradate, con interventi sul decoro e sui servizi pubblici. Nel dialogo con l'amministrazione ha preso parte anche il comitato di cittadini Progetto Fontivegge, rappresentato da Giulietto Albioni. L'associazione ha ribadito l'importanza di interventi mirati alla sicurezza, considerandola una priorità per favorire il recupero sociale ed economico della zona. Albioni ha presentato tre proposte centrali, mantenimento del nucleo di sicurezza attivo, utilizzo del taser per le forze dell'ordine e il prolungamento delle ordinanze contro prostituzione e alcol, ritenute essenziali per contenere le problematiche del quartiere. Abbiamo pensato innanzitutto che, vista anche la recrudescenza di fatti criminosi che sono avvenuti anche abbastanza frequentemente in questi ultimi tempi, eravamo rimasti con la sindaca nell'ultimo incontro che avevamo avuto, informale, che sarebbe stato il caso di fare una conferenza a livello pubblico per evidenziare le problematiche che lei già conosce molto bene e per sapere quali da parte loro sarebbero state le soluzioni alla risoluzione di questi problemi. Le nostre proposte che già sono state riportate in fase pre-elettorale alla sindaca e post-elettorale sono il mantenimento del nucleo di sicurezza di fontivegge, l'uso finalmente del taser e il prolungamento degli anni venturi delle ordinanze anti-prostituzione e anti-alcol. Questi sono i punti sui quali noi non transigiamo. In questo momento io la vedo in senso negativo perché se non si risolve il problema sicurezza e il problema degrado non c'è via d'uscita per ripristinare attività del quartiere. Anzi, l'unica cosa positiva è che abbiamo scoperto sul giornale di ieri che un'attività ha aperto nel sottopasso tra via Canali e via Mario Angeloni. Gli auguriamo quello che abbiamo augurato a tanti altri che hanno dovuto chiudere. Secondo la sindaca Vittoria Ferdinandi, il tema della sicurezza urbana è prioritario e ben radicato nella comunità di Perugia. Ferdinandi ha sottolineato come la questione sia percepita dalla cittadinanza in modo profondo, considerando l'assegno positivo di una città con anticorpi contro l'illegalità. Per affrontare la problematica di fontivegge, la sindaca propone un modello di sicurezza partecipata, in cui non si delega esclusivamente alle forze dell'ordine, ma si incentiva la comunità a collaborare attivamente. Il problema della sicurezza è un problema che la nostra città sente moltissimo e questo da un punto di vista è un bene perché ci rimanda l'immagine di una Perugia sana che ha dei grandi anticorpi nei confronti di ogni forma di insicurezza e di illegalità. Il problema di fontivegge è un problema strutturale che chiama in campo quelle che sono le multidimensionalità della sicurezza, perché è un problema legato all'urbanistica, al degrado urbano, alla mancanza di presidi di socialità, che sono poi le più grandi forme di sicurezza e di presidio del territorio. Quindi quello che bisognerà mettere in campo è cercare di costruire tutti insieme un grande concetto di sicurezza partecipata, perché purtroppo pensare di delegare il problema della sicurezza esclusivamente alle forze dell'ordine, a delle opzioni sicuritarie, data anche la scarsità di risorse a cui possono appellarsi le forze dell'ordine, non è una strada percorribile. La strada percorribile è quella di riportare attività commerciali, di riportare vita all'interno del quartiere, di sviluppare dei design urbani che siano in grado di consentire anche un monitoraggio, una sicurezza naturale da parte dei residenti. Quindi sono soluzioni, non ci sono ricette a breve giro. Quello del quartiere di Fontivegge è un problema che dovrà essere affrontato nel tempo, mettendo insieme numerose fonti. Intervenendo sul tema, l'assessore Francesco Zuccherini ha parlato delle opere pubbliche programmate per Fontivegge e delle iniziative per il decoro urbano. Zuccherini ha chiarito che il degrado fisico degli spazi contribuisce a peggiorare le condizioni sociali e in aree come Fontivegge questo problema si acquisce. Per contrastare tali dinamiche, il Comune ha pianificato il completamento di interventi per rendere più sicura e accessibile la stazione di Perugia. Come si è costruito? In generale gli spazi che restano vuoti all'interno della città rischiano appunto di essere riempiti da attività che non sono ovviamente ordinarie e tendenzialmente sono criminali. Quindi questo capita in tutte le città, in tante zone come quella delle stazioni, e anche a Perugia purtroppo da anni la situazione è così. È evidente che una parte di attività e opere legate alle opere pubbliche e quindi al decoro anche urbano possono aiutare l'azione anche sociale. Poi credo che in questo territorio in particolar modo ci sia bisogno di andare a raschiare un pochino più il fondo, non fermarsi soltanto alla parte estetica che comunque è importantissima ma andare anche a vedere ed entrare nelle criticità sociali che le persone, le comunità vivono. E quindi su questo sicuramente c'è un lavoro molto profondo e anche molto più complicato da fare.